a me sembra che gli dica bravo bravo che gli aggiunge magari due o tre parole no? però che non si fa con la violetta, non si fa con la violetta si, non si fa con la violetta, non si fa con la violetta perché poi vedi lo trattengono ma riesce molto a dare qualche schiappone dove intervengono due o tre con i genti e lo prende, se non schiappa in cui non si capisce